Il Comitato Interministeriale per la Programmazione e lo Sviluppo Sostenibile ha dato questa mattina il Via Libera al progetto definitivo della Pedemontana Piemontese. Soddisfatto il Ministro dell'Ambiente della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, con la firma della Delibera nella seduta odierna, partiranno i lavori per la costruzione del collegamento Masserano-Ghemme, il cui tracciato unirà a Biella all'autostrada A26, consentendo un percorso agevole e veloce verso Novara, Milano e Malpensa. L'intervento, ancora sottolinea Pichetto, rientra tra le infrastrutture strategiche prioritari del Paese ed è un obiettivo importante del valore di 384 milioni di euro che potenzierà in maniera significativa la viabilità e le interconnessioni del territorio piemontese. Ancora, sottolinea Pichetto, ringrazio coloro che hanno portato avanti per anni questa battaglia sono molto soddisfatto. Ma su questo nuovo collegamento arrivano anche le parole del Presidente della Regione, Alberto Cirio e dell'assessore Gabusi. È un ulteriore passo verso la realizzazione di un'opera che il nostro territorio attende da tempo. Il Ministro Salvini aveva già annunciato a dicembre la disponibilità a finanziare l'infrastruttura e con la convocazione di questa mattina si dimostra una determinazione a metterla in cantiere entro il 2024. Dunque sono previsti 385 milioni di euro per realizzare il primo lotto di quest'opera che garanterà il collegamento diretto da Biella con l'autostrada A26. La piedemontana piemontese dunque potrà finalmente diventare una realtà. Ma ora si chiede ad ANAS di procedere speditamente verso l'individuazione tramite bando di gara del soggetto che dovrà realizzare i lavori per poter aprire al più presto uno dei cantieri più attesi del più.